Siamo al numero 55 Eccoci qua con Max Spina Cristian Genrezza Con la Peugeot 208 GT Line Siamo sempre nell'ambito del Rally 4 Sicuramente ci sarà un assoluto equilibrio Tanti da reggiano per l'italiano E alcuni per la Coppa Italia Ma l'obiettivo è quello del podio In questa meravigliosa categoria Pochi secondi alla partenza Anche per sfida e geninezza Ci sono varie classi I Ciennelli di Sier I Ciennelli di Sier la strada che attraverso il progetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché siamo stati un po' sfortunati, è una foto semiasi ma ci siamo divertiti un sacco. E la costanza vi ha portato all'arrivo, se volete fare la foto, se no vi salutiamo. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non classifichate, si erano ritirati ieri, hanno ripreso quest'og... The new 100% electric Jeep Avenger.